La Presidente Meloni ha dichiarato che è una manovra coraggiosa nel segno della crescita della giustizia sociale. A bene esaminarla, adesso che la stiamo esaminando possiamo già concludere che è una manovra vigliacca nel segno della decrescita e della profonda ingiustizia sociale. Lo dimostreremo adesso nei prossimi giorni, esamineremo tutti i capitoli di questa manovra, dimostreremo come è un'assoluta presa in giro per gli italiani perché contraddice completamente le premesse e i programmi che sono stati fatti in campagna elettorale. E inoltre la cosa più importante purtroppo è che una manovra che porterà il Paese completamente in recessione non c'è nessuno sprazzo, nessun tentativo di contrastare il ciclo economico avverso. Grazie.